Si è concluso con un party esclusivo che si è tenuto al Park Plaza di Westminster Bridge la settimana della moda londinese, un ritorno sulla passerella per moltissimi stilisti, designer ma soprattutto modelle. Questa è l'occasione per capire come la pandemia e la Brexit stanno influenzando il mondo del fashion. Molti gli abiti presentati ad una folla chiaramente emozionata per il ritorno sulla passerella. Tra i tantissimi ospiti presenti abbiamo intervistato Rebecca Ferdinando. Sto facendo la scuola che fa sentire bene, guardando la designer, Rebecca, e la nuova collezionata. È bellissima. I love Rebecca's style. I think it is bright, it is fun, it is everything that my personality is. I mean, I'm not wearing bright today, but I'm wearing fun. And I think that she's quite girly as well. I'm quite girly. I just love, I love that girliness, that energy that she brings with her fashion. And I think it suits so many girls like me. I love you, yeah.